Ehi, sono Flavio, il mi poltolacamice e benvenuto a questa nuova puntata in cui ti darò il mio parere su Coloma nella sua versione deluxe. Se vuoi vedere come funziona però puoi cliccare in alto in descrizione per andare a vedere il mio video tutorial. Ora ti dico brevemente come funziona, dopodiché ti dico cosa ne penso. Coloma è un gioco molto particolare, ambientato nel vecchio West, a Johnny Peck l'autore piace molto il vecchio West, dove siamo durante la corsa all'oro, noi siamo dei pionieri che devono cercare di far crescere questa città di Coloma costruendo degli edifici che effettivamente aiutano a creare un motore di azioni, azioni che vengono svolte su questa sorta di rondella, diciamo. Questa rondella è molto particolare perché c'è una tessera che si sposta ogni round a coprire un'azione che diventa inagibile ma diventa agibile invece quella che è proprio della tessera. E quando i giocatori scelgono segretamente con l'affaruccio l'azione che vogliono fare, quando poi tutti scoprono, si posiziona il proprio lavoratore ed è lì che c'è la parte divertente perché puoi cercare di predire cosa faranno gli altri giocatori ma non ne sarai mai sempre sicuro al 100%. E se la maggior parte dei giocatori si mette su un'azione, quell'azione sbanca e quindi invece di poterle fare tutte e due, cioè quella base e quella boom, se ne potrà fare solo una. Quindi c'è una sorta di push or luck poker style che è molto interessante. Poi c'è la possibilità di muoversi su questa piccola mappa per cercare di fare un po' di controllo del territorio. C'è questo mercato dell'oro molto interessante che funziona davvero bene. E poi c'è una sorta di piccola cooperazione nel cercare di difendere la città dai fuorilegge perché ogni round ci saranno sempre più fuorilegge e i giocatori possono addirittura aggiungerne facendo una determinata azione. Ma poi dovranno mettere i propri drughi, i propri dudes, quindi i drughi, a difendere la città e quindi non potranno utilizzarli per le altre azioni. Però alla fine del round, anzi alla fine dell'anno, chi avrà impiegato il maggior numero di drughi avrà un grosso vantaggio rispetto a chi non ne avrà impiegati affatto o chi ne avrà impiegati poco. La maggior parte dei punti poi si tengono alla fine della partita tra edifici che sono stati costruiti, controllo del territorio sulla mappa e altre cose. E adesso ti dico che cosa ne penso seguendo la mia personale classifica di cose che secondo me è un gioco che dovrebbe avere partendo dai buoni componenti che sono indubbiamente eccezionali come vedrai anche dalle immagini. Sono davvero fatti bene ma la Final Frontier Games ci ha abituato ormai a uno standard molto alto. Questo è un gioco che viene fuori da Kickstarter quindi è stato anche aiutato a diventare così buono. A differenza della versione retail sicuramente non ci saranno le fish ma saranno in cartone, le monete, non ci saranno alcuni personaggi, non ci saranno probabilmente le pepite d'oro fatte a questo modo. A parte magari i personaggi che fanno parte della versione deluxe che sicuramente aumentano la variabilità non vedo grosse differenze tra un'edizione e l'altra cioè perché spendere tantissimi soldi perché comunque costicchia per questa edizione deluxe solo magari per dei personaggi in più perché no sì però questo ovviamente poi lo lascio giudicare a te. Componenti davvero ottimi comunque la grafica molto carina molto allegra l'artista è Demico, Demicio, che a mio parere non stanca mai. Ora il tema legato alle meccaniche. Il tema ovviamente è quello del vecchio West della corsa all'oro molto tematico il mercato dell'oro quindi più ce n'è in giro e meno vale. Molto appropriato direi. Per il resto a livello tematico non c'è granché però le meccaniche sono molto interessanti a partire sicuramente dal mercato dell'oro, la selezione delle azioni segreta che a me piace particolarmente, il fatto comunque di non sapere quasi mai con precisione quello che faranno gli altri giocatori è sempre molto carino almeno per il mio gusto e simula quasi una partita a poker, un po' di controllo del territorio, la creazione di un proprio motore di azioni. Ognuno poi può avere una plancia diversa magari dopo le prime partite perché per la prima è consigliato utilizzare quella uguale per tutti e quindi ognuno avrà un suo percorso. Quindi di meccaniche ce ne sono tante e sono molto carine. Alcune sono anche tematiche come ovviamente l'oro, come ovviamente questa sorta di partita a poker e la sparatoria con i fuorilegge sicuramente quella è molto tematica. Ora questo tema non riesce proprio tantissimo fuori dal gioco, sicuramente si pensa più all'importanza e alla bellezza delle meccaniche, però sicuramente tutti questi accorgimenti aiutano ad immergersi un pochino di più. Questo gioco è troppo dispersivo? Potrebbe sembrare all'inizio perché ci sono tante cose da fare, la mappa, le carte, l'oro, la sparatoria, gli hotel se li aggiungi, i poteri dei personaggi. Sembra che ci sia davvero tanta carne al fuoco e che non si sa a quale azione bisogna puntare all'inizio della partita, cosa fare, come partire. Dopo la prima azione ti posso assicurare che ti renderai conto di come va il gioco. In realtà è un gioco per niente dispersivo, anzi. Questo gioco è adatto a tutte le esperienze? Beh, diciamo che un giocatore esperto sicuramente ha il suo vantaggio, perché sa quali azioni sono migliori da fare all'inizio, magari quale edificio tra le carte che si hanno in mano è utile giocare, costruire all'inizio della partita piuttosto che dopo, sicuramente conoscerlo dà un certo vantaggio su chi non lo conosce. Però si sente tanto questa differenza? Forse sì. Forse alla fine della partita, perché alla fine della partita è quando si ottengono tutti i punti e quindi si vede l'incredibile divario magari che c'è tra un giocatore esperto e uno non esperto. Ma durante la partita in realtà te la godi tranquilla anche se non lo conosci. Regolamento comprensibile, scheda di riferimento veloce e simboli chiari. Il regolamento non è affatto male, non è meraviglioso e completissimo, però sicuramente è fatto molto bene. Per quanto riguarda le schede di riferimento ce n'è una che serve a ricordarti tutte le fasi, cosa fanno tutte le azioni, i simboli. Ti dirò la verità, la guardi all'inizio della partita mentre ti spiegano il gioco e poi la lasci perché davvero non serve, le regole sono molto semplici. Per quanto riguarda i simboli, i simboli sono veramente chiarissimi. Poi abbiamo una grafica alla quale siamo abituati, cioè quella di Demico, Demicio, che abbiamo visto in Riders of the North Sea, tutta questa serie sui vichinghi, anche quella localizzata dalla Fire Games di Paladini, Architetti, oppure in Robin Hood, sempre della Final Frontier Games. Quindi sono simboli e grafica conosciuti e facili da intuire. Ci sono magari dei simboli che possono essere un pochino più profondi, ma ti dirò la verità, li impari davvero in due minuti. Questo gioco è indipendente dalla lingua, ma comunque hanno tradotto il regolamento in italiano. Ora la casualità bilanciata al determinismo. Ora, questo gioco diciamo che è un German, tra virgolette, perché comunque ha una buona dose di casualità. La pesca delle carte e soprattutto la selezione delle azioni, perché sì, puoi intuire quello che vogliono fare gli altri giocatori, o magari quale azione è più utile ai giocatori in un determinato momento. Sicuramente con un numero minore di giocatori, perché più aumentano i giocatori, e questo è un gioco che va da 1 a 6, più aumentano i giocatori e più diventa difficile predire quello che faranno. E quindi lì c'è una buona dose di casualità. Un pochino di casualità anche nella pesca dei barili. Quindi diciamo che si bilancia abbastanza bene il determinismo e la casualità. Perché comunque non è una casualità che, beh, vediamo che cosa succederà. Hai sempre modo di fare strategie e comunque di recuperare dopo. Quindi c'è un buon equilibrio, secondo me. A me piace molto questa concezione dell'azione selezionata segretamente. E l'idea poi di scoprire, vedere, ah sei andato su quell'azione, maledetto, maledetti, 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 e poi cercare magari di ripiegare su altro e fare quest'azione magari dopo. Davvero interessante questo connubio tra casualità e determinismo in questo gioco. La curva di apprendimento. Le regole non sono tantissime, il gioco si apprende davvero facilmente, non è assolutamente difficile. Sicuramente capire come giocarci e come sfruttare bene le proprie carte, quando scegliere determinate azioni, come muoversi. Richiede qualche partita in più, ma un paio per iniziare, diciamo, a diventare padroni del gioco. Perché comunque non è un gioco difficilissimo. La durata delle partite non è lunghissima. Indubbiamente aggiungendo giocatori, ad esempio in partite a sei giocatori, sicuramente le partite diventano più lunghe. Anche perché selezionare segretamente l'azione che si farà dopo ovviamente prevede che tu ragioni su quello che vuoi fare anche nei turni, nei round successivi. Quindi se ci sono dei pensatori al tavolo, il brodo si allunga un po'. L'interazione. L'interazione in questo gioco sicuramente è molto presente. C'è l'interazione ovviamente nella selezione delle azioni, perché io cerco di capire quello che vogliono fare gli altri giocatori, nella maggior parte dei casi, e magari cerco anche di bloccare il loro gioco. Difficile. È più probabile che io cerchi comunque di pensare al mino di gioco. Comunque c'è il controllo del territorio, comunque c'è la possibilità di sfruttare le carovane degli altri giocatori per saltare degli spazi. Magari io aspetto adesso a spostare la mia carovana, aspetto che lo farà qualcun altro in modo che io poi sfrutto le loro carovane per saltare degli spazi. La sparatoria è molto interattiva, perché giustamente chi ne mette di più ha un grosso vantaggio rispetto agli altri. Il fatto di riuscire a prendere dei ponti prima che finiscano l'oro, comunque c'è una bella interazione. Un'interazione diciamo indiretta, che può diventare un pochino pochino diretta. Casuale nella selezione delle azioni, specialmente in più giocatori. Secondo me è un gioco che funziona, che dà il meglio di 6 in numeri dispari, quindi 3 e 5, perché c'è meno probabilità di prevedere dove andranno tutti i giocatori. Ho avuto questa sensazione. È un gioco che in singolo giocatore non mi ha fatto granché impazzire. In due giocatori ha una variante interessante che direi che funziona e all'aumentare dei giocatori sicuramente diventa più interattivo casualmente per la selezione delle azioni. È molto probabile che tu ti veda l'azione che hai scelto sbancare, ma sicuramente è molto più interessante, perché ci sono più ragionamenti dietro ed è più divertente vedere poi che cosa succederà quando tutti scoprono l'azione. La variabilità al setup. Ora, io ho avuto la possibilità di provare questo gioco quando era un prototipo, prima che andasse su Kickstarter, ne ho fatto un'anteprima, e uno dei miei problemi con questo gioco era proprio la variabilità, perché era pochissima. Ovvio era un prototipo, infatti hanno sbloccato tantissime cose, adesso la variabilità è decisamente molto più alta. E ogni volta che lo intavolo, non ti dico che è un gioco nuovo, ma sicuramente mi dà la sensazione di avere davanti un qualcosa di diverso e la possibilità di fare strategie diverse e comportarmi in maniera diversa, nonostante magari ci siano comunque delle cose standard che si fanno sempre. Quindi sicuramente è molto apprezzabile la variabilità. In conclusione cosa penso di questo gioco? Mi aveva comunque sorpreso la sua versione in prototipo e questa è stata una conferma, anzi sono ancora più contento del risultato finale. Principalmente come già ti dicevo per la variabilità, perché adesso è diventato un gioco che a ogni partita mi dà sempre qualcosa di interessante. Mi piace molto la selezione delle azioni, credo che sia una delle mie meccaniche preferite. Il tema è carino, interessante sicuramente, i componenti sono meravigliosi e mi piace molto questo concetto di interazione che c'è su questa ruota, le azioni che sbancano. Quindi sicuramente mi diverte, mi piace. È un gioco comunque abbastanza veloce una volta che ci prendi la mano, quindi si intavola anche facilmente. È un gioco che posso consigliare bene o male a tutti, perché comunque dà abbastanza da pensare al gamer e comunque è anche buono per chi sta iniziando a passare magari dai giochi molto semplici a quelli un pochino più complessi. Questo è un gioco sicuramente di difficoltà media e per quanto riguarda la qualità-prezzo, qui dentro di qualità ce n'è tanta, sia a livello di gioco che a livello di componenti. La Deluxe sta sugli 80 euro, quindi è un bel costo importante. La versione retail sicuramente starà a qualche euro di meno, magari sarà sulla settantina, forse sui 65, adesso non ricordo bene. È un bel investimento, ma i componenti ci sono, sono ottimi, l'idea della calamita funziona benissimo, per esempio. Sono soldi ben spesi, secondo me, almeno quanto meno per la versione retail. La versione Deluxe poi sarà una scelta tua. E questo è tutto, io ti ringrazio per aver guardato quest'altra puntata, se hai dubbi o domande di qualsiasi tipo mettile nei commenti e io risponderò appena possibile. Ti ricordo che se ti piacciono i video che faccio, considera l'idea di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina così ogni volta che ne pubblico uno ti arriverà una notifica. Io sono Flavio, il Meeple con la camicia e ci vediamo alla prossima. Grazie.